Ciao a tutti ragazzi, forse come qualcuno di voi avrà notato, qualcuno dico, perché già i miei follower, quelli che mi seguono sul mio canale sono pochi, poi avranno tutti i fatti loro, non si preoccuparanno quasi nessuno della mia assenza sul canale di questo abbastanza lungo periodo, ma ho avuto problemi, qualche problema tra cui anche poi il trasloco nell'appartamento nuovo e mi hanno impedito, poi la mancanza di internet per più di un mese mi ha impedito di proseguire quei lavori che avevo registrato quest'estate da pubblicare su YouTube e niente, quindi adesso che magari ho un po' più di tempo provo a ricominciare a pubblicare qualcosa sul canale. Volevo iniziare con un paio di video che avevo fatto quest'estate in 1 a 3 giorni in Valle d'Aosta con il mio amico Daniele, nei quali siamo andati al passo del Gran San Bernardo e a Cervinia, due uscite fantastiche, toste, comunque sono salite abbastanza lunghe e snervanti sotto certi punti di vista perché inizialmente sono strade molto grosse, larghe, trafficate, interminabili, fino poi a quando arrivi negli ultimi chilometri che sono fantastici, soprattutto a mio avviso il Gran San Bernardo è una cosa bellissima, quando arrivi in cima al valico del versante svizzero con il lago sotto è fantastico. Prima di pubblicare video delle salite però voglio pubblicare a breve il video che ho registrato sulla discesa del passo del Gran San Bernardo, lo voglio pubblicare perché è fantastica, è una discesa fantastica, adrenalinica, veloce, si toccano punte anche di 75 km orari, nei pezzi di rettilineo lunghi, con dei tornanti fantastici, poco trafficata quando l'ho fatta io perché era durante la settimana e niente, così spero che vi piaccia questo video, spero che vi piacciono i prossimi video che voglio caricare, ho intenzione di fare anche un focus sull'abbigliamento invernale da ciclismo, ricominciare possibilmente a fare anche qualche birra e vedere magari di fare qualche assaggio e niente, poi pubblicherò qualche altro video riguardante una nuova cosa che mi ha abbastanza intreppato in questo periodo, poi ve ne parlerò in un video apposito, in un piccolo angolo dedicato a questa cosa e niente, vi saluto, ci sentiamo prossimamente con i prossimi video, ciao a tutti!